Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video ho deciso di analizzare nel dettaglio il mercato della Juventus, cioè spiegare perché nel pagellone che ho fatto qualche giorno fa ho deciso di dargli 8,5, quindi dare una spiegazione su come la Juve si è mossa. Vi invito a mettere una ventina di mi piace se volete che nei prossimi giorni esca lo specifico del mercato di una delle squadre top in Italia. Vi invito a scrivermi nei commenti la vostra, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Detto questo iniziamo subito e andiamo innanzitutto a dire tutti gli acquisti e tutte le cessioni. Specifico che nelle cessioni non ho messo quei prestiti con diritto o obbligo di riscatto con contro riscatto perché sì hanno fatto cassa nella Juventus però comunque non si sa effettivamente il loro futuro, si parla di Mandragora, di Piazza, di Audero, di Cerri, quindi non sono stato a inserire quelli. E così come non ho messo Caldara perché comunque non è stato definibile un giocatore della Juventus, sì ha fatto la conferenza stampa però ragazzi non ha fatto nemmeno una presenza quindi ne parlerò perché comunque parlerò della trattativa però non ne parlerò di lui come un giocatore della Juventus. Quindi negli acquisti ho inserito CR7, Cancelo, Bonucci, Perin, Emre Can, Douglas Costa perché è stato pagato quest'anno e Spinazzola. Mentre invece nelle cessioni ho inserito Higuain, Asamoa, Buffon, Sturaro e Licksteiner. Allora diciamo che secondo me la Juventus ha fatto un mercato molto molto intelligente nel senso che comunque ha cercato di ringiovanire la Rosa puntando comunque su alcuni giovani perché ha acquistato Magnani, quello difensore del Sassuolo che ha fatto molto molto bene contro l'Inter, ha acquistato comunque altri giocatori molto giovani per cercare di creare una squadra per il futuro. Però in qualsiasi caso si è mossa molto intelligentemente perché oltre a ringiovanire la Rosa ha cercato di aumentare la qualità per puntare decisamente alla Champions, c'è poco da prendersi in giro. E diciamo che dal punto, partendo dai portieri, è partito Buffon, come noi sappiamo è partito per la scadenza del contratto andato dal Paris Saint-Germain e la Juve ha deciso di sostituirlo per 12 milioni con Perin. Allora Perin è un ottimo portiere, secondo me a me piace molto, a me piace molto, mi piace molto più di Donnarumma, secondo me è più forte attualmente di Donnarumma. Perin che oltretutto è stato pagato molto poco perché poi andiamo a guardare Meret è stato pagato 25 milioni, quindi Perin è un portiere più pronto, è un portiere che ti dà più garanzie rispetto a quanto te ne può dare Meret, fisicamente ha avuto i suoi infortuni ma comunque l'anno scorso ha trovato continuità a livello di prestazioni, sia a livello qualitativo sia a livello di minutaggio. e quindi di conseguenza secondo me la Juve indubbiamente ha perso il portiere che negli ultimi anni è stato il più forte al mondo, negli ultimi 20 anni probabilmente è stato il più forte al mondo, però secondo me l'acquisto di Perin a queste cifre e di Perin in quanto tale non è per niente male, secondo me su piazza se volevi prendere un portiere italiano non ce n'erano di meglio a questo prezzo. Poi potevi prendere Donnarummen indubbiamente che sarà anche più promettente di Perin, però ovviamente non devi pagare 60 milioni, 70 milioni, 80 milioni, chi lo sa quanto. Quindi secondo me Perin è stata una scelta giustissima e si alternerà con Scherzli perché qualitativamente secondo me sono identici. Quindi ottimo, ottimo colpo da parte della Juventus. E' stato acquistato poi Bonucci come difensore centrale, qui bisogna parlare appunto della trattativa che ha visto, separo la trattativa, parlo di Bonucci-Caldara e poi di Guain a parte. Quindi Bonucci che è stato scambiato con Caldara, con il Milan, diciamo che, allora, secondo me le due squadre ci hanno guadagnato tutte e due. Allora, il Milan al momento ha un progetto che non può portarla in poco tempo a vincere il campionato, la Champions. Magari la Coppa Italia ci può anche stare, però è chiaro che ha bisogno di qualche anno, almeno secondo me due o tre anni, per puntare a vincere il campionato se continuerà con un progetto come questo e ha bisogno di tanto tempo per la Champions, perché la Champions comunque sono sette anni che la Juve è lì, però non riesce, quindi figuriamoci il Milan, nel senso sì che il Milan ha più identità europea, però secondo me un po' di fatica la farà comunque. In qualsiasi caso ci ha guadagnato tutte e due perché la Juve voleva puntare in due anni alla Champions. E quindi ha deciso di prendere Bonucci perché è un difensore più pronto, è un difensore che conosce già l'ambiente Juve perché tu potevi prendere un Godin, un Savic, che comunque sono giocatori che hanno sempre giocato la Champions, però dovevano ambientarsi, dovevano conoscere l'ambiente appunto, dovevano conoscere i giocatori, dovevano conoscere il metodo di lavoro. Invece Bonucci era quel difensore che sapeva già come si lavora la Juventus, conosce già l'ambiente, lo spogliatoio e quindi di conseguenza secondo me è un'ottima scelta. Poi che indubbiamente non si sia comportato bene, è inutile dirlo, però devo essere sincero, alla fine dopo uno sfogo iniziale che ho avuto Bonucci è sempre Bonucci, per i Juventini sarà sempre Bonucci, anche per te che mi guardi che sei Juventino sarà sempre Bonucci anche per te. Quindi, ottimo colpo. Dal punto di vista del Milan, appunto per questo progetto che dicevo, di due o tre anni almeno, che secondo me deve durare, per poter competere per uno scudetto almeno, Caldara è ottimo perché Caldara ti garantisce ora una titolarità importante, perché è comunque un giocatore che qualitativamente c'è, e tra due anni un difensore che potrebbe essere un top secondo me di reparto a livello italiano, quindi nel campionato italiano, e anche per la nazionale. Quindi, secondo me, ottima scelta, ha fiancato qua Romagnoli, che anche lui fra due anni lo sarà, quindi sicuramente ottima scelta da parte di entrambe le squadre. Sulla fascia sinistra abbiamo perso, la Juventus ha perso Asamoah a parametro zero, come sappiamo è andato all'Inter, e l'ha rimbattato con Spinazzola. Qualitativamente, secondo me, non cambia tanto, nel senso che Asamoah l'anno scorso ha fatto comunque un'ottima stagione, secondo me ha fatto molto meglio di Alessandro, non in termini di bonus, in termini di gol, in termini di assist, però in termini di prestazione e di costanza. Alexandro spesso ha fatto delle partite un po' del cazzo, nel senso che ha fatto parecchio male. Però Spinazzola, secondo me, è un giocatore che, soprattutto, è juventino, e sembra una cavolata, però fa tanto. Cioè, se voi guardavate la conferenza stampa di Spinazzola, era più felice lui che me, nel senso che lui, veramente, ragazzi, era estasiato dal fatto di tornare alla Juventus dopo il prestito dall'Atalanta, era contentissimo di potersi giocare le sue carte, è un giocatore che, secondo me, per la maglia darà tutto. Quindi, è un giocatore che, secondo me, è abbastanza giovane, potrà crescere, potrà fare molto, molto bene. Sarà la riserva di Alexandro, come lui era Asamoah, quindi a livello qualitativo e numerico non cambia assolutamente nulla. Però è un giocatore che, secondo me, potrebbe essere una sorpresa quando tornerà adesso dall'Infortunio e per le prossime stagioni. Mentre invece, sulla fascia destra, il cambio di Licksteiner con Cancelo. Ragazzi, qui la Juve ci ha guadagnato e tanto, perché comunque Licksteiner era da qualche anno che non era più quel difensore, quel terzino che poteva garantire quella spinta, quella cattiveria per poter puntare a, che ne so, fare degli assist o anche dei gol. Qualche osina ha fatto, per l'amor di Dio, però non era più qualitativamente adatto, secondo me. Mentre invece Cancelo, ragazzi, è uno dei terzini destri più forti nel panorama del calcio mondiale, secondo me deve migliorare in fase difensiva, è l'opposto di Licksteiner, secondo me Licksteiner era molto più forte in fase difensiva e meno in fase offensiva. Invece Cancelo è molto, molto più forte in fase offensiva e meno in fase difensiva. Se riuscisse a migliorare sotto questo aspetto, secondo me potrebbe diventare uno dei migliori terzini che c'è al mondo, terzini destri. Quindi mi ricorda molto, diciamo, Marcello. Se riuscisse a migliorare, secondo me potrebbe diventare tranquillamente un Marcello. Quindi è molto, molto forte, la Juve ci ha guadagnato, spero sia pronto per la Champions, ma comunque sarà molto, molto utile anche per il campionato. E quindi, secondo me, la Juve ci ha guadagnato. La sostituzione dopo è Sturaro con Emre Can. Cioè, Sturaro è partito, in presto tornerà in realtà alla Juventus, però è un giocatore che, sì, ha sempre dato l'anima, io l'ho sempre molto apprezzato questo. Ma qualitativamente aveva dei limiti, ragazzi. Qualitativamente Sturaro non dava quelle garanzie, tant'è che ha sempre giocato meno poi nel corso degli anni. Mentre invece Emre Can, ragazzi, è un centrocampista della Madonna, ha preso al parametro zero. Quindi è un centrocampista che potrà aiutare molto, secondo me conquisterà il posto titolare in pochissimo tempo. Tempo di adattarsi, tempo di conoscere bene tutto quanto. E poi sarà il titolare inamovibile di questa Juventus per qualità, per quantità più, per inserimento, per fase difensiva. Un centrocampista assolutamente completo. Quindi è molto, molto giovane perché, se non sbaglio, è del 95 o del 94. Però comunque potrà crescere tantissimo e sarà, secondo me, il fulcro centrale della Juventus fino a che non deciderà poi di cambiare aria, se deciderà di cambiare aria. Il miglioramento più grande che la Juventus ha avuto, ovviamente, è quello davanti, come punta centrale. È stato venduto Iguain, è stato preso Cristiano Ronaldo. Allora, diciamo che molti ci sono lamentati, hanno detto, cavolo, però Iguain è Iguain. Avete ragione, Iguain è un giocatore che io adoravo quando era la Juve, mi piaceva molto. Mi piaceva anche prima, in realtà, che venisse la Juve perché comunque ho sempre riconosciuto le sue qualità. Però era un giocatore che veniva pagato tanto. Cristiano Ronaldo ha portato nelle casse della Juventus tanto, però ha anche un esborso importante. Perché prende 30 milioni in anno. Di conseguenza, Iguain, che prendeva poi dopo Cristiano Ronaldo l'ingaggio più costoso, diciamo, perché prendeva 7 milioni e mezzo, se non sbaglio il terzo poi di bala con 7, prendeva troppo, ragazzi. Per un giocatore come Iguain, lasciarlo in panchina, con quell'ingaggio, sinceramente, era troppo pesante. Probabilmente la Juve voleva fare cassa subito. Alla fine si è accontentata di questa formula col Milan, che prevede il 18 milioni di presto più 36 di riscatto. Comunque riescono a prendere la cifra che loro volevano. Però ha perso indubbiamente Iguain, ed è un peccato. Ma comunque, se vai a guardare la carta di identità, Iguain aveva i suoi anni. Non che Cristiano Ronaldo non ce l'abbia, anzi, c'è una di più di Iguain. Però in questo caso Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo. Iguain è Iguain. Detto questo, ragazzi, comunque ho deciso di spiegarvi perché ho deciso di dare quel voto alla Juventus. Come detto, vi invito a mettere 20 mi piace, una ventina di mi piace, se volete che domani o dopo domani esca un altro video su un mercato non specifico di un top club italiano. Vi invito a scrivermi nei commenti cosa ne pensate, secondo voi se la Juve si è mossa bene oppure no. E vi invito a scrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Detto questo, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Grazie a tutti.